Dunque i nemertini rappresentano un piccolo film, però rappresenta un particolare interesse se consideriamo praticamente l'evoluzione degli invertebrati. In basso a destra vediamo un nemertino un po' intrecciato. Sembrano simili ai verbi piatti ma hanno una grossa differenza. Hanno un apparato digerente che va dalla bocca all'ano continuo. Ricordiamo che invece l'intestino dei crinidari e dei platenmenti è a fondo cieco. Qual è il vantaggio di avere questo tipo di tubo digerente? È che l'alimentazione può essere innanzitutto continua e vari segmenti del tubo possono specializzarsi per vari stadi digestivi. Per l'alimentazione presentano un lungo tubo retrattile, quello che si chiama proboscide, che afferra la preda e la porta alla bocca. E hanno anche un abbozzo di apparato circolatorio. Beh, incredibile, ma questi vermicelli hanno una lunghezza straordinariamente variabile. Da meno di due centimetri possono arrivare fino a 60 metri, con colori dettuto differenti. E i corpi però sono di diametro abbastanza sottile e intorno ai 5 mm. Basta così perché è solo un filumer abbastanza piccolo. Mentre al prossimo video cominceremo a parlare di vermi, di dimensioni microscopiche, ma ci sono centinaia di specie, che sono i nematodi e rappresentano un ulteriore grado.